Ben ritrovati gentili telespettatori, grazie come sempre per aver scelto la nostra emittente televisiva. Tante anche oggi le notizie che andremo ad approfondire e ad analizzare nel corso del telegiornale del Nord-Est. In primo piano gli incidenti stradali, quelli avvenuti non soltanto nella mattinata Odirna ma anche nella nottata. Uno di particolare gravità proprio nel cuore del Friuli. Tanto un cittadino austriaco nella mattinata Odirna ha guidato contromano in A23. Ma parleremo anche del nuovo governo, il voto affidato alla piattaforma Rousseau. Di fatto abbiamo affidato le sorti del nostro governo ad un voto virtuale. Ne parleremo, ne parleremo anche con ospiti in studio. Ancora sequestro di droga ma anche arresti. Avremo poi un'altra evasione fiscale. Pensate, da vent'anni era misteriosamente scomparso al fisco. Ma è stato rintracciato poi ovviamente dalle forze dell'ordine deputate. E ancora rubano all'interno di un ristorante l'intero incasso. Ma ci sarà poi lo spazio anche per la questione degli animali. Un garage abusivo, una fuga di gas oggi pomeriggio che ha creato particolare allarmismo e pericolo a Codroipo. Ovviamente andremo ad analizzare punto per punto. Intanto la domanda che abbiamo posto in edizione precedente. Straniero picchiato dal branco, il deputato del Partito Democratico, colpa dell'odio seminato da Lega e Movimento 5 Stelle. Siete d'accordo? Sì, il 32% di voi, noi invece il restante 68%. E oggi come sappiamo insomma il nuovo, anzi il vecchio perché è stato appunto riconfermato, Presidente del Consiglio, Conte ha svelato le proprie carte. Ha dato insomma il nome dei ministri, un governo a quanto ci sembra attrazione centro-sinistra. Andremo poi anche a conoscere i principali ministri, le principali personalità politiche che hanno preso in mano i vari ministeri. Sicuramente insomma un governo che fa discutere, farà discutere, staremo a vedere se sarà in grado di durare fino alla fine del mandato, almeno per i prossimi tre anni. Allora la domanda, via libera alla Conte Bis e vi chiedo, il governo giallorosso durerà a lungo? O cadrà, sarà destinato a cadere insomma come quello che abbiamo avuto, giallo-verde, quindi quello guidato da Lega e 5 Stelle. Quindi il Partito Democratico e l'EU, il centro-sinistra e i 5 Stelle, dureranno a lungo? O saranno destinati a cadere nel giro di breve? Se lo fate sapere, se lo ritenete opportuno, sms, whatsapp, le nostre email, la diretta streaming, facebook ed instagram, i nostri canali social per condividere le notizie e commentarle, per essere sempre aggiornati su quanto accade a nord-est e per dire la vostra, i merito ai quesiti che in ogni edizione vi proponiamo. Apriamo allora il telegiornale, incidente ieri sera a Grado Pineta, lungo la strada provinciale per Monfalcone, in gravi condizioni. Un uomo, il primo servizio. Ancora un grave incidente è accaduto nella zona di Grado. Ieri sera, per causa in corso di accertamento, un uomo a bordo della sua macchina ha perso il controllo lungo via Monfalcone, in località Grado Pineta, terminando la sua corsa contro un albero. Nell'impatto il veicolo si è accartocciato e l'uomo al volante è rimasto incastrato. Sul posto sono giunti celermente i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone e lo hanno estratto con l'aiuto delle pinze oleodinamiche. Passato in consegna ai sanitari del 118, giunti dall'ospedale di San Polo, è stato successivamente elitrasportato a Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Disagi alla circolazione stradale. Paura per una fuga di gas questo pomeriggio in pieno centro a Codroipo. Dalle 14 i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Codroipo, unitamente i colleghi della sede centrale di Udine del distaccamento di San Vito al Tagliamento, sono intervenuti in via Piave all'altezza dei civici 71 e 73 per una copiosa perdita di gas e metano dalla rete cittadina. Tutte le utenze elettriche dei 24 appartamenti sono state disattivate in via precauzionale. Anche il traffico veicolare è stato immediatamente interdetto. Sul posto è stata quindi fatta giungere una squadra della società che gestisce l'impianto, era Acegas APS, che ha provveduto all'intercettazione della tubazione. Accanto al tubo interessato si trovava anche un'altra tubazione per il trasporto del gas in bassa pressione, che è stata solo intaccata. Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle squadre che sono presenti sul posto. Schianto tra auto e furgone a Santa Lucia di Piave, ferite all'alba. Due donne, i particolari nel prossimo servizio. Brutto incidente questa mattina all'alba a Santa Lucia di Piave, nella marca trevigiana. In località Bocca di Strada, alle 5 del mattino, si sono scontrati un furgone e un'auto con tanto di principio d'incendio al seguito dell'impatto. Sono stati attimi di forte apprensione. Immediatamente sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Conegliano, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. E il Suem 118, che ha prestato le cure alle conducenti ferite due donne, una trentenne di Santa Lucia e una quarantunenne di nazionalità senegalese. Entrambe sono finite in ospedale per le cure del caso. Non sarebbero in gravi condizioni. I pompieri si sono poi occupati della messa in sicurezza dell'area incidentata. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri, a cui spetta ora l'esatta ricostruzione del sinistro. Un cittadino austriaco di 34 anni nella mattinata di oggi ha guidato a contromano il tratto dell'autostrada 23 dall'imbocco di Coccao nei pressi dell'ex valico internazionale sino all'area di servizio di Campiolo Ovest in direzione Udine, dove è stato intercettato dagli agenti della Polizia Stradale di Amaro. Per fortuna non si sono verificati incidenti lungo i 51 chilometri di percorrenza in senso vietato. Pesato ha percorso 51 chilometri in autostrada. Per lui è scattata la revoca della patente di guida, il fermo amministrativo per tre mesi dell'auto. Non guidava né in stato di ebbrezza né sotto assunzione di sostanze stupefacenti. L'importo della multa, sai salata, sarà deciso nei prossimi giorni dalla prefettura di Udine. Incidente questa mattina a Sistiana, ha ricoverato per i forti traumi in ospedale un 59enne residente nella zona. Incidente questa mattina a Sistiana. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nord di Aurisina, intervenuti per i rilievi di legge, si sono scontrati tra loro un'autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio, l'uomo che viaggiava in sella alle due ruote, si tratta di un 48enne residente nel comune di Duino Aurisina, soccorso dall'equipe sanitaria giunta da Catinara. Dopo averlo stabilizzato sul posto, è stato trasportato sempre in ambulanza al nosocomio triestino. Per lui sospetta frattura, una caviglia e alcune tumefazioni. Per fortuna è fuori pericolo di vita. Il leso è il conducente dell'auto. Un 59enne residente sempre nel territorio della provincia di Trieste. Come già vi accennavo ieri sera, la piattaforma Russo ha dato il via libera al governo del cosiddetto Conte Bis. Per i ministeri, quelli più importanti di Maio agli esteri, mentre il triestino Patuanelli ha avuto in mano e quindi andrà a guidare il Ministero dello Sviluppo Economico. Il servizio! Al via al governo Conte Bis. Oggi pomeriggio il premier incaricato Giuseppe Conte si è presentato al Quirinale per sciogliere le riserve. A colloquio con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presentato la lista dei ministri del governo, formato dal Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Tra i più importanti incaricati, Luigi Di Maio, ministro agli esteri, Roberto Gualtieri all'economia, Alfonso Bonafede, confermato alla giustizia, e Stefano Patuanelli allo sviluppo economico. Riccardo Fraccario è il nuovo sottosegretario, la Presidente del Consiglio. Il secondo governo Conte vede in tutto 21 ministri, 10 del Movimento 5 Stelle, 9 del Partito Democratico, uno di Liberi Uguali e uno tecnico. Domani alle 10 si terrà al colle il giuramento della nuova squadra di governo, ad annunciarlo il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. A questo punto si è giunti dopo 27 giorni dalla fine del vecchio governo. Era l'8 agosto quando l'ex ministro dell'interno, Matteo Salvini, annunciava la sua sfiducia al primo esecutivo, segnando così la fine dell'esecutivo. Sul nuovo governo che sta per nascere non sono mancate le polemiche, amplificate dal fatto che ieri il via libera all'alleanza tra 5 Stelle e PD con il 79% è stato affidato alla piattaforma Lusso. Uno schiaffo alla democrazia per molti, gli stessi che avrebbero voluto tornare alle urne. E in fretta. Questo è il sentimento dei tanti, della maggior parte degli italiani che non hanno visto di buon occhio il fatto che le sorti del nuovo governo siano state affidate proprio alla piattaforma Lusso. Alberto Marchiori, presidente di Ascom, Confcommercio delle Friuli Occidentale. Architetto, ben ritrovato. Grazie per essere in nostra compagnia. D'altre cose, so che ha inviato alla stampa e anche a giornali di carattura nazionale un intervento. Intervento del presidente di Confcommercio, Marchiori, che ha intitolato così i rotti. Perché? Perché mi sono ispirato al famoso articolo di Gali della Loggia, il professor Gali della Loggia. Ne avevo parlato la volta scorsa. Sì, dei famosi ottimati e nuovi barbari. Ho individuato una terza categoria, i rotti. I rotti saremmo tutti noi che, come dire, siamo stanchi di questa alternanza. perché la verità vera è che questa situazione di difficile governabilità del Paese è legata tutta ed esclusivamente ad una legge elettorale voluta proprio dai cosiddetti ottimati, i quali, per paura di far vincere a suo tempo i 5 Stelle, perché il rischio era che i 5 Stelle come forza emergente potessero governare i Paesi in autonomia, hanno deciso di fare una legge elettorale che creava solo situazioni di questo tipo. E quindi loro, tutti loro, hanno una grossa responsabilità. E poi ho fatto una disanima un po' su quella che è la situazione, cioè il generale, Matteo Salvini, che ha fotografato in modo realistico tutte quelle che sono le cose che nel nostro Paese non vanno, che sono, per certi versi, penso la maggior parte della gente, condivise, burocrazia, tasse, lavoro, rapporti con la Francia, l'Europa, l'immigrazione, eccetera. Il problema è la ricetta. e quindi ci sono tutta una serie di quesiti. Queste ricette, vogliamo continuare a, come dire, a dire cose che non vanno o incominciamo a dare delle risposte con delle soluzioni, sempre che vogliamo restare in Europa, che tengono conto che in un contesto europeo ci si deve mettere a un tavolo, discutere, valutare, creare delle alleanze, dei compromessi. Per esempio, con la Francia ha senso con i cucini di Donald Trump continuare in una diatriba oppure è il caso di magari mettersi a tavolino e discutere soprattutto incominciando dalla Libia, la guerra. La Germania, cosa facciamo con la Germania? Con la definita nemica Merkel, no? Insomma, vanno costruite delle alleanze. I 5 Stelle in Sordina di fatto questa cosa l'hanno fatta perché si sono portati a casa il Vice Presidente del Parlamento come io avevo anticipato da questi studi entro un paio di mesi avrebbero risolto il problema del gruppo parlamentare massimo ottobre questo mi fu detto dal Vice Presidente Castaldo la realtà vera è che dopo questa operazione di governo in Italia con l'alleanza col PD sicuramente i 5 Stelle che erano un po' estragnati dalla governance europea potranno rientrare nell'ambito di questa operazione avranno probabilmente un loro gruppo e verranno anche ripagati per avere come dire votato la commissaria tedesca Presidente lei ha sempre guardato in là aveva anche così fatto un pronostico ne vedremo delle belle a settembre siamo arrivati al punto addirittura prima di settembre il governo di fatto al governo è mancata la corrente qualcuno ha staccato la spina secondo lei ci sono i presupposti perché 5 Stelle e Dem che si sono tanto odiati fino a qualche giorno fa ma io metto oltre i Dem anche libri uguali quindi la sinistra diciamo del nostro paese questa alleanza possa durare almeno per i prossimi tre anni o sarà destinata a finire nel nulla anche perché teniamo in considerazione un fatto se dovesse finire anche questo governo credo che una parte i 5 Stelle e l'altra parte il PD scomparirebbero nel nulla sarebbero destinati proprio a morire allora beh questa è una bella scommessa perché anche questo è un matrimonio anomalo fra due persone che si odiavano fino a ieri così come lo era per Lega e 5 Stelle quindi siamo più o meno sullo stesso piano detto questo ci sono degli interessi comuni perché entrambi i partiti hanno avuto una come dire sconfitta elettorale su tutti i fronti 5 Stelle a livello europeo le proiezioni li davano ancora in discesa anche se recentemente pare che abbiano recuperato qualcosa il PD idem hanno perso la governance di parecchi territori a livello nazionale regioni comuni ecco quindi c'erano tutti i presupposti per cui questi partiti se fossimo andati a elezioni avrebbero ceduto il passo sicuramente a un centro-destra al centro-destra però nell'ambito delle regole costituzionali hanno fatto quello che gli è consentito fare ed è legittimo fare detto questo ce la faranno? non lo so gli opinionisti dicono che ce la faranno sicuramente fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica io non lo so 2021 sì noi non abbiamo nessuna convenienza a fare i giochini potrone o non potrone ma sicuramente il fatto che questa gente non voglia andare a casa d'emblè e voglia tentare tutto per tutto è legittimo sta nelle cose e quindi il problema è se lo scotto di questo matrimonio anomalo lo pagano gli italiani oppure se questo governo che nasce con le dichiarazioni di Conte in una chiave innovatrice staremo a vedere e ribadisco ci darà darà quelle risposte che noi tutti auspichiamo perché diversamente non saranno i partiti di opposizione andare in piazza saranno i cosiddetti quelli che io ho chiamato i rotti che si sono definitivamente rotti capacisi come diceva il buon come dire scrittore che ci ha appena lasciati sicuramente ci sono dei nomi nuovi ci sono delle persone già viste alcune di quelle che io stimo che conosco che hanno fatto bene tipo Franceschini come ministro ai beni ambientali e culturali al turismo nel suo precedente ruolo ha lavorato molto bene Paola le mi chiedi anche lei è una che ha lavorato bene quindi poi bisogna misurarle sul campo le hanno dato mi pare i trasporti ecco quindi stiamo a vedere sicuramente di fronte ad una cittadinanza che come è dimostrato dei dati è prevalentemente orientata a centro-destra e soprattutto sui temi che il centro-destra ha denunciato che vanno risolti dovrà avere molta attenzione a questo tipo di esigenze se vogliono recuperare credibilità e voti diversamente il rischio è che quando si arriverà alle prossime elezioni la battosta sia superiore a quella che c'è stata fino ad oggi allora grazie grazie come sempre al presidente Alberto Marchiori presidente di Ascom Confcommercio per il Friuli Occidentale ci vedremo nei prossimi appuntamenti ancora per analizzare queste ed altre dinamiche grazie grazie architetto per essere stato con noi sorpreso con la droga in casa albanese arrestato dai carabinieri dopo un pedinamento da Mestre a Vicenza il servizio un uomo di 30 anni di nazionalità albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo un pedinamento iniziato a Mestre e culminato a Vicenza il soggetto era stato visto frequentemente con la propria auto nella zona della stazione ferroviaria Mestrina in via Piave i militari intuendo che potesse essere coinvolto in una rete di spaccio hanno iniziato a seguirlo l'uomo accorgendosi di avere alle spalle una gazzella accelerato verso il casello autostradale dirigendosi verso la provincia berica la corsa è finita proprio nelle vicinanze dell'abitazione del trentenne a cui è seguita la perquisizione domiciliare all'interno della casa i militari dell'arma hanno trovato nascosti nei mobili del soggiorno diversi involucri contenenti cocaina all'incirca un etto e marijuana lo stupefacente è stato sequestrato così come una somma in contanti pari a 2.500 euro ritrovati nell'abitazione verosibilmente ritenuti provento dispaccio l'uomo sospettato di essere il punto di riferimento di una fiorente attività è stato arrestato per detenzione ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti andiamo con il nostro prossimo ospite l'amico Tiziano Centis consigliere regionale in Friuli Venezia Giulia per i cittadini grazie per essere tornato in nostra compagnia anche perché è venuto diciamo così ad annunciare la ripresa del format che sta portando tra altre cose con Sensi e Fortuna appuntamento questa sera alle 21 quindi adesso magari i nostri telespettatori diamo un'infarinata di quello che andranno poi a sentire nel dopo telegiornale è tempo di mangiare qualcosa bere un caffè e poi ritorniamo qua in studio in studio di cosa potremmo parlare stasera immagino sanità perché c'è la rivolta io ho sentito diversi sindaci disposti veramente ad andare avanti contro quel piano segreto che vorrebbe appunto la riorganizzazione della sanità stessa e l'abolizione e la cancellazione del cuneo di nascita sì direttore siamo molto preoccupati siamo molto preoccupati perché circola questo piano segreto circola questa ipotesi dove nell'eventuale prossima riforma sanitaria vede un ridimensionamento di alcune funzioni e servizi in ospedali della nostra regione ovviamente noi nel nostro territorio abbiamo i nostri ospedali che abbiamo cuore quindi San Vito tagliamento e questo piano questa bozza di riforma prevede il depotenziamento di alcuni servizi fra i quali il punto nascita allora è chiaro che siamo preoccupati siamo preoccupati perché oggi l'ospedale di San Vito tagliamento il punto nascita dell'ospedale di San Vito tagliamento risponde da un servizio con 700 dati 2018 750 parti dati 2017 superiamo gli 800 parti dati 2016 siamo a 900 parti e quindi questo ospedale risponde a un territorio ampio e vasto tutta la bassa pordenonese parte del Veneto orientale dando certezza e sicurezza per quanto riguarda il punto nascite allora è chiaro che non possiamo aspettare che il piano sia nero su bianco non possiamo aspettare che il piano approdi in consiglio regionale per essere poi votato perché sappiamo benissimo e Palmanova insegna che quando la decisione viene presa non si sposta più nulla allora è chiaro che la preoccupazione c'è ed è parecchia ed è tanta tanti sindaci si stanno preparando per portare nei prossimi e nei propri consigli comunali un ordine del giorno a difesa e sostegno del punto nascita dell'ospedale di San Vito di Tagliamento noi come movimento politico siamo pronti già da questo venerdì in piazza al mercato a San Vito di Tagliamento e per i prossimi venerdì a presentare un banchetto un gazebo per iniziare una raccolta firme perché tutti quanti devono ovviamente dare la propria adesione il proprio sostegno non è solo una questione che riguarda i consigli comunali ma è una questione che riguarda tutto il territorio tutti i cittadini della nostra parte della regione Friune di Cia Giulia allora un sostegno a difesa del nostro ospedale un sostegno a difesa del nostro punto nascita un sostegno a difesa di quelle eccellenze come all'ospedale di San Vito come all'ospedale di Pordenone e tutti i presidi ospedalieri del Friune occidentale che hanno caratterizzato le eccellenze della nostra regione per quanto riguarda la sanità allora io per carità capisco che la campagna elettorale di questa maggioranza ha appoggiato principalmente su due temi la riforma antilocali e la riforma sanità ma andare a toccare a togliere penalizzare quei territori laddove ci sono servizi che funzionano è incomprensibile allora scendiamo in campo prima che le porte si chiudano prima che le scelte vengano fatte scendiamo in campo presentiamo un ordine del giorno che difende e sostiene il punto nascita di San Vito e tagliamento e attendiamo che questa giunta regionale assuma proprie decisioni senza penalizzare servizi ed eccellenze che funzionano consigliere abbiamo ancora 30 secondi si diceva proprio del formato non perdete l'appuntamento alle 21 perché si parlerà di altri anche problematiche sempre relativa alla zona del San Vitesse l'autostazione tante cose io so che è stato contattato anche da almeno un autista dell'Atap che lamentano e lamenta appunto una situazione sgradevole che va avanti da diverso tempo un autista dell'Atap si è fatto un po' portavoce di tutti gli autisti dell'Atap che utilizzano l'autostazione di San Vito e tenimento per le corse per il trasporto dei ragazzi e degli studenti verso il secondo polo scolastico del Friuli Occidentale perché dopo Pordenone e San Vito l'autostazione è insufficiente ormai sappiamo benissimo le manovre entrata uscita delle pullman e delle corriere non sono in sicurezza perché proprio di fronte davanti l'autostazione esiste è presente il liceo scientifico con 900 ragazzi presenti quindi insomma è una situazione abbastanza difficile per quanto riguarda è pericolosa per quanto riguarda la sicurezza esiste l'autostazione c'è un accordo un dialogo fra il comune di San Vito e le fervie dello Stato per la presa in carico per l'accessione al comune di San Vito di un'area dismessa delle fervie dello Stato in modo tale che ci sia poi la possibilità di ampliare l'autostazione questo è il primo passaggio che ancora non è stato fatto e ovviamente spero che quanto prima il comune faccia questo e dopodiché ci sono altri passaggi tutte cose che comunque spiegheremo stasera all'incontro che ci troveremo qua fra un'ora e mezza circa dai ci rivedremo le vado a mangiarsi un boccone a bere un caffè perché dovrà essere in forma insomma sono almeno tre gli argomenti ho capito che andremo ad analizzare subito dopo le 21 grazie allora ci vediamo tra poco anche con il consigliere regionale Tiziano Centis che è espressione dei cittadini in Friuli Venezia Giulietta altre cose nel programma poi vedrete in sovraimpressione degli indirizzi mail dei numeri dei contatti sono quelli per avere il filo diretto con il consigliere Tiziano Centis avete dei problemi delle richieste delle questioni da risolvere beh chi meglio insomma dell'amico Tiziano Centis può mettersi a servizio dei suoi cittadini e cercare insomma di mediare o di risolvere appunto determinate situazioni almeno ci contiamo possa essere così grazie ancora ci vediamo alle 21 andiamo con un altro ospite invece con il dottore Alberto Rossi giornalista opinionista grazie dottore per essere tornato ai nostri studi grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito non parliamo di sanità perché con lei abbiamo già toccato questo discorso parliamo però di politica questa situazione ingarbugliata che oggi insomma è venuta a galla almeno c'è una soluzione e io le chiedo ma era proprio necessario passare attraverso la piattaforma Rousseau per avere il nuovo governo e avere insomma l'imprimatur di questo governo Contevis è una vicenda il passaggio dalla piattaforma Rousseau è una questione esclusivamente interna al Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle ha elaborato da quando è nato l'idea della realizzazione della cosiddetta democrazia diretta e quindi in qualche modo ogni decisione che può riguardare scelte di alleanze scelte politiche scelte di governo la piattaforma Rousseau rappresenta il momento lo strumento decisionale politico del Movimento 5 Stelle che però non ha nessuna influenza e non ha avuto nessuna influenza sul risultato finale della formazione del governo perché a prescindere dalla scelta che è avvenuto attraverso questa modalità le maggioranze come abbiamo detto anche nelle altre volte nelle altre occasioni si formano in Parlamento si formano lì le maggioranze e i numeri e i numeri e i numeri e i numeri sembrerebbe che ci siano e possano quindi consentire la nascita di un nuovo governo certo è stata la crisi più pazza della storia della nostra storia repubblicana parlando con degli amici si diceva che forse sarebbe il caso di introdurre una nuova materia la psicopolitica perché immaginare come nell'arco di poche settimane due nemici possano trovare le ragioni di costruire insieme un'alleanza è un tema che merita sicuramente un certo approfondimento però facciamo un piccolo ragionamento direttore chi è il vincitore e chi lo sconfitto chi sono i vincitori e chi li sconfitti da questa vicenda chi sono allora lo sconfitto è sicuramente Salvini Salvini è uscito male da questa vicenda tra l'altro creata da lui da lui stesso una una vicenda che ha lasciato veramente sconcertati tutti in qualche modo insomma perché non si è capito come un leader politico che aveva il vento in poppa che stava veramente dominando la scena politica italiana abbia improvvisamente deciso di staccare la spina ed è impressionante come sia improvvisamente dal centro dell'attenzione generale sia improvvisamente uscito dal cono mediatico sia in qualche modo come scomparso quindi sicuramente Salvini è lo sconfitto è la figura politica ma ci sono delle ricadute negative per la Lega e per il servizio credo credo che questo aprirà aprirà nel tempo potrebbe aprire nel tempo qualche smagliatura qualche crepa ma c'è un vincitore o ci sono dei vincitori questo secondo me è ancora troppo presto per dirlo perché rispondendo proprio anche al vostro quesito questo governo durerà non so se lo rimettiamo in onda tutto dipenderà se questo governo saprà camminare con le proprie gambe e saprà dare un respiro lungo alla sua al governo del paese questo è il tema vero no? perché abbiamo detto prima come nel giro di un mese due nemici storici improvvisamente mettono da parte tutto quello che è successo e costruiscono non un contratto di governo ma un programma di governo che è molto diverso no? un'intesa politica c'è un'intesa politica ecco quindi qui si tratta di capire se effettivamente questo governo avrà un passo lungo o se avrà il fiato corto e qui le incognite sono moltissime partendo in primis dal partito democratico perché ieri il direttore del giornale Sallusti ha fatto una definizione che mi è piaciuta molto il partito democratico è un partito tribale no? cioè un partito fatto da tante tribù che devono mettersi d'accordo per condividere un progetto ora in questo momento tutte le tribù del PD si sono messe d'accordo per raggiungere questo obiettivo speriamo eccezione fatta per Calenda eccezione fatta per Calenda certo che ha avuto il coraggio di uscire che ha avuto che ha fatto ma Calenda è una figura insomma ma dico ma nel nel suo complesso il partito democratico ha fatto una scelta condivisa e unità saprà camminare ancora a lungo lungo questa strada o le correnti interne cominceranno a farsi la guerra reciprocamente questo è un tema molto 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 incerto che ovviamente pone degli interrogativi e anche delle incertezze sul futuro di questo governo e allora magari ne riparleremo a partire dalla settimana prossima grazie intanto come sempre dottor Alberto Rossi il nostro giornalista opinionista ci vedremo nei prossimi appuntamenti sicuramente per parlare ancora del governo ma anche di altri temi strettamente legati all'attualità da vent'anni era misteriosamente scomparso al fisco evadendo quasi 4 milioni di euro nei guai un cittadino campano nato e vissuto per un periodo a Udine da vent'anni era irreperibile al fisco e nel frattempo aveva organizzato una truffa miglioraria ai danni dello Stato sono state le fiamme gialle di Napoli durante diversi mesi a scoprire maschera di ferro nome in codice alla fine i finanzieri sono riusciti a incastrare l'uomo si tratta di un sessantenne nato e vissuto per alcuni anni a Udine ma da tempo residente in Campania in base alle indagini coordinate dalla procura di Napoli sarebbe l'autore di una frode fiscale da 4 milioni di euro sulla quale si sta facendo piena luce i finanzieri lo avevano cercato nell'ultima abitazione dove era stato segnalato nel casertano in casa non c'era così hanno pensato che il sessantenne si stesse godendo lo spettacolo tra il pubblico in strada grazie alla foto di una vecchia carta d'identità lo hanno individuato e fermato gli è stato sequestrato tutto quello che aveva in quel momento con sé chiavi dell'auto documenti cellulari carte di credito e quindi anche conti correnti l'uomo non aveva una residenza fissa non risultava nei suoi confronti alcun bene intestato nemmeno un'utenza telefonica da quando si era separato dalla moglie nemmeno la donna aveva più notizie sul suo ex marito andiamo in Veneto ci dovrebbe essere l'ospite di Alessio Conforti il tema ricorrente sicuramente quello del governo e le possibili ricadute da più parti allora a voi la linea sì con il coordinatore regionale dell'AMPI Diego Colovini grazie per essere in nostra compagnia è un passo in avanti per la sinistra quanto sta accadendo a livello politico ma compito dell'AMPI qui non è sicuramente discutere o meno sulla formazione del governo l'AMPI è un'associazione di 140.000 iscritti ed è un'associazione plurale formata da tantissime anime e da tantissimi idee e principi certo che l'attenzione che l'AMPI ha nei confronti del governo è un'attenzione che risponde alle sue finalità cioè l'AMPI si occupa essenzialmente di difesa della Costituzione si occupa di memoria e si occupa di antifascismo e quindi benvengano tutti i governi e tutte le maggioranze che hanno queste finalità da capire ovviamente la domanda era anche rivolta al 5 Stelle cioè se questa formazione di governo a parer suo al di là ovviamente poi di quelle che sono le correnti politiche possa diciamo così rappresentare un qualcosa di nuovo fermo restando che non credo che si siano viste nella storia delle crisi proprio nel mese di agosto lei che idea si è fatta? ma io ho anni abbastanza capelli bianchi da ricordare i famosi governi balneari degli anni 70 governi che duravano un mese due mesi e si davano addirittura la fine del mandato a inizio e apertura delle camere in settembre certo è che siamo in una situazione particolare nel senso che io ho l'impressione che il problema sia un problema essenzialmente di persone e di uomini il basso flusso alle elezioni dimostra anche un certo disinteresse da parte dei cittadini un disinteresse che sempre questa cosa a mio avviso è dovuto anche alla mancanza di figure importanti nell'ambito della politica soprattutto in un periodo come questo dove ci sono dei problemi oggettivi che le persone e i cittadini sentono con particolare forza e con particolare coinvolgimento ci sono situazioni di emergenza ci sono situazioni che devono essere risolte abbiamo problemi sul tavolo che sono veramente tanti e vedere un po' queste maggioranze che si cambiano che si formano che si danno un contratto quindi alcuni punti da risolvere dall'altra parte invece un programma politico a lungo termine io credo che questo sia anche un sistema manca un po' l'appartenenza oppure sì perché anche di questo si parla rispetto al passato visto quanto sta accadendo dovremmo anche fare un certo tipo di ragionamento è anche vero che il governo Renzi ha avuto un 40% di voti all'europea all'europea dove sono trasmigrati moltissimi di questi sono entrati nel gruppo dei 5 Stelle e chiaramente c'è poi questo contrasto se ritornare all'interno del Partito Democratico o rimanere nel 5 Stelle storicamente chi esce dai partiti di sinistra difficilmente ci ritorna questa è probabilmente un'occasione per riguardare rivedere con un occhio e con una visione diversa le problematiche del Paese probabilmente sarà anche una prova generale perché la condizione abbiamo sentito anche gli ospiti precedenti c'è questa tendenza a prospettare la fine del gruppo dei 5 Stelle un'eliminazione che poi è stata data anche all'interno delle prove elettorali che sono state fatte recentemente e quindi molto probabilmente ci sarà un cambiamento e una nuova prospettiva politica nelle prossime elezioni che saranno presumo non tanto distante ma sicuramente dopo la nomina del Presidente della Repubblica Grazie Diego Colovini per essere stato con noi Arrivederci e grazie Linea Pordenone Rubano l'intero incasso di un ristorante a Venezia tre ladri vengono però individuati puntualmente dai carabinieri ed assicurati alla giustizia i carabinieri del nucleo natanti intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in un esercizio commerciale del centro storico a Venezia sono riusciti a fermare poco dopo i tre presunti autori del reato nello specifico si tratta di un 45enne un 46enne e un 50enne tutti denunciati a piede libero accusati di essere gli autori dell'episodio perpetrato ai danni di un ristorante che si trova in campo Sangallo i tre individuati e fermati dall'equipaggio di una moto vedetta della sezione radiomobile si trovavano in una calle isolata a poca distanza dal luogo del furto i soggetti tutti italiani e dimoranti a Venezia con precedenti di polizia per reati analoghi sono stati sottoposti immediatamente al controllo e sono stati trovati in possesso di alcuni arnesi da scasso tra cui una grossa tenaglia un cacciavite delle pinze una fiamma ossidrica e dei guanti tutto il materiale rinvenuto è stato successivamente sottoposto a sequestro nelle ultime tre settimane salgono così a otto le persone denunciate per diversi furti commessi in centro storico a Venezia e fermate dai carabinieri inoltre nell'ambito degli stessi servizi di controllo del territorio messi in atto dal nucleo natanti sono stati intimati nell'ultima settimana ben quattro ordini di allontanamento cosiddetti dasp urbani per violazioni varie a regolamento di polizia e sicurezza urbana del comune prima di andare con i due ospiti qui a Pordenone andiamo a Udine sempre parlando di manifestazioni contro questa volta il governo giallorosso c'è raggiunto in studio mentre la manifestazione è in corso l'onorevole Walter Rizzetto che è il portavoce regionale di Fratelli d'Italia Friuli Venezia Giulia allora Rizzetto alle 15.30 c'è stata la presentazione della nuova squadra di governo per quanto riguarda il Conte Bis l'abbiamo ripetuto Conte Bis che domani giurerà alle 10 davanti al Capo dello Stato voi nel frattempo scendete in piazza per dire no a Ribaltone ma sì scendiamo scendiamo in piazza scenderemo in piazza lunedì a Montecitorio di fronte alla Camera dei Deputati per dire no fondamentalmente ci ostiniamo a dire no a quello che è un governo malfatto è un governo che non doveva esistere al netto di tutte le prerogative lo diciamo una volta per tutte costituzionali che presuppongono che questa poteva essere una via di fuga per così dire da parte del Presidente Mattarella per non andare al voto e per evidentemente applicare la Costituzione e formare un altro governo comunque non ci rassegniamo diciamo di no diciamo di no soprattutto ad un governo che è assolutamente discontinuo nelle more di quello che è stato detto sino a qualche ora fa sino a qualche ora fa Partito Democratico Movimento 5 Stelle si sono tirati per i capelli in un modo assolutamente importante anche spesso con dei toni fortissimi mafia capitale Bibiano eccetera adesso nel nome delle poltrone vanno assolutamente d'accordo senta in una famosa imitazione di Andreotti Noschese disse i franchi e tiratori cioè voi vi aspettate che i franchi e i tiratori tirino oppure tireranno l'acqua al mulino del governo ma io immagino la seconda guardi per come e per quello che capisco io di Camera e Senato dopo qualche anno che sto là dentro ritengo che questa purtroppo sarà una maggioranza che avrà dei numeri forse anche superiori alla scorsa maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega ci sono le autonomie dentro c'è più Europa dentro molto probabilmente anche se sono un po' spaccati c'è tutto il Partito Democratico e c'è soprattutto l'EU quindi più che un governo giallo-rosso andiamo inevitabilmente verso un governo rosso senta e probabilmente ci sarà anche la stampella di Forza Italia perché Forza Italia attraverso i suoi vari referenti a Roma ha fatto capire che comunque vada non ci sono in questo momento le condizioni per andare a votare perché Berlusconi dice una cosa e gli altri dicono un'altra è molto semplice con Forza Italia dobbiamo chiarirci da mesi forse da anni Forza Italia deve chiarire soprattutto la posizione che ha avuto in Europa che ha in Europa Forza Italia dovrà eventualmente ci fossero dei voti lungo questo governo al governo stesso da parte di Forza Italia dovrà chiarire una volta per tutte la sua posizione siamo Fratelli d'Italia parlo della mia parte chiaramente Fratelli d'Italia è completamente per il no avremmo ridato molto volentieri la parola ai cittadini che tra l'altro è cosa democratica e anche guarda caso in questo caso costituzionale però lei mi insegna che se i numeri ci sono è una repubblica parlamentare il governo va fatto poi dipende da cosa succede in Parlamento costituzionalmente ci sta politicamente e a livello di feedback che noi abbiamo da parte dei nostri concittadini non ci sta purtroppo questa è la legge così dobbiamo andare avanti senta proprio un minuto veloce finisce anzi tramonta all'era del sovranismo o soltanto diciamo che il centro avanti ha sbagliato la porta e ha messo il pallone nella vostra rete oddio forse non siamo arrivati all'autogol diciamo che qualche passaggio errato a centrocampo c'è stato qualche pericolo di prendere il gol c'è stato qualche errore evidentemente è stato è stato fatto però voglio dire chi non commette errori in politica detto questo sì il sovranismo va avanti siamo una nazione sovrana e quindi dire dirci sovranisti non è un'offesa dovrà andare avanti questo nostro bellissimo ma disgraziato paese soprattutto per quanto riguarda le pensioni il welfare il lavoro che i giovani non trovano la disoccupazione che è ancora molto alta le aziende che se ne vanno le tasse troppo alte le burocrazie insomma dovrà questo governo cercare di dare una risposta a questi interrogativi noi saremo sul pezzo a fare un'opposizione ferrea e noi saremo come televisione a vigilare e se arbitro fischia rigore rigore assolutamente linea Pordenone facciamo un piccolo break prima di immergersi nuovamente nella politica allora Doyle ben ritrovato all'avvocato Alessandra Marchi grazie per essere in nostra compagnia parliamo di animali abbandonati e di animali smarriti due fenomeni diversi ma ugualmente gravi che bilancio possiamo fare di questa estate o ancora troppo presto per stendere le prime cifre direi che possiamo già fare un bilancio perché i numeri purtroppo sono quasi a confermare quello che è accaduto nel precedente 2018 come ogni anno a fine verso la fine dell'estate si possono fare dei bilanci su quelli che sono stati gli animali abbandonati solo nel 2018 sono stati 130.000 parliamo di 80.000 cani e i restanti sono gatti e i numeri sono anche quest'anno molto elevati concentrati soprattutto sull'estate e dobbiamo registrare sempre di più dei fenomeni di abbandoni che non riguardano solamente i cani e i gatti ma ahimè anche altre tipologie di animali pensiamo alle tartarughe ai pesci e anche gli animali addirittura i serpenti anche se poi ritrovano casa no? sì e quindi c'è un abbandono più differenziato ovviamente il problema qual è? che a fronte per esempio nel 2018 di 130.000 casi di abbandono sappiamo che l'abbandono è un reato quindi va perseguito dal codice penale quindi prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda fino a 10.000 euro quindi il problema è che a fronte di 130.000 casi di abbandono le denunce sono 1.200 quindi vuol dire che il fenomeno è sommerso che non si riesce a stanare quello che è il vero problema una cosa poi ci tengo a dire il triste fenomeno degli animali abbandonati altra cosa quello degli animali smarriti che possono sembrare due cose diverse ma in realtà portano a delle conseguenze molto simili basta andare a farsi un giro sui social e ci si rende conto di quanti animali mi riferisco ai cani e ai gatti vengono smarriti tutti i giorni allora qui bisogna un attimo puntare l'attenzione su quelle che dovrebbero essere le responsabilità dei proprietari perché come sappiamo c'è un obbligo di custodia soprattutto con riferimento ai cani altro discorso magari può riguardare i gatti però ci si deve domandare se questi smarrimenti queste fughe di questi animali possono essere fenomeni arginabili nel senso che può accadere l'episodio dello scoppio dello sparo adesso è ricominciata la caccia quindi purtroppo ahimè ma anche fughe degli animali che in realtà possono essere motivate anche da situazioni di disagio quindi invito i proprietari degli animali ad essere molto più attenti nella custodia dei loro animali per quanto riguarda i gatti non finirò mai di dirlo volete ritrovare il vostro gatto come a volte si può ritrovare il proprio cane mettete il microchip perché la possibilità degli animali smarriti di recuperare il proprio proprietario è principalmente l'esistenza del microchip c'è ancora resistenza sui gatti ma forse risolveremo tanti casi perché un gatto smarrito che non ritorna più a casa diventa un animale randaggio quindi aumenta quel fenomeno di cui ho parlato all'inizio del randagismo ci vedremo la settimana prossima così Alessandra Marchi torna nuovamente nei nostri studi il classico appuntamento settimanale grazie intanto per essere stata in nostra compagnia noi invece a parlare di sanità sanità lo facciamo con il dottor Valerio delle Frate consigliere comunale a San Vito al tagliamento grazie per essere tornato con noi in nostra compagnia dunque sanità ha sentito prima le dichiarazioni del consigliere regionale Tiziano Centis visto che ha sentito il discorso da con un occhio un po' critico so che tra altre cose anche voi vi state preparando per presentare un qualcosa nel corso del prossimo consiglio comunale sì senz'altro anche noi come Amor San Vito con il gruppo consigliere comunale di Amor San Vito presenteremo un ordine del giorno in cui spiegheremo le nostre ragioni con la speranza che queste vengano condivise dal resto del consiglio comunale e inviate poi alla giunta regionale per la valutazione del caso sono rimasto sinceramente sorpreso dalle parole del consigliere regionale perché mi aspetto e mi aspetterò anche in futuro che un consigliere regionale faccia delle proposte per l'intera regione visto che si parla di una riforma della sanità e non di un problema specifico solo di San Vito mi aspetto che appunto un consigliere regionale eletto per questo faccia il proprio mestiere e quindi magari faccia una proposta di più ampio respiro magari ecco lasci a noi consiglieri comunali il dovere di rappresentare le regioni del nostro comune invece mi trovo ci troviamo parti invertite io mi trovo a fare un discorso di più ampio respiro e consigliere in piazza con la bandierina a dire difendiamo l'ospedale di San Vito ripeto farebbe un cattivo lavoro un assessore regionale una giunta regionale che facciano una riforma solo per interessi politici di parte e farebbe credo un cattivo lavoro un consigliere regionale che pensasse solo al proprio bacino elettorale senza considerare il resto della sanità perché mi piacerebbe sapere per esempio chi parla solo di San Vito cosa pensa dell'ospedale di Spilimbergo che per quanto mi riguarda dovrebbe essere assolutamente ridotto al lumicino o addirittura chiuso per ottimizzare le risorse di personale ed economiche però di questo io non ho sentito parlare nessuno tutti parlano di una riforma da contrastare di interessi da difendere ma l'ospedale di San Vito che tutti ricordano non esiste già più da alcuni anni e la colpa di questo non è della riforma ancora che deve venire di questa giunta regionale fa parte della vecchia riforma targata PD cittadini quindi credo che oggi parlare di una realtà che non esiste più al fine di difenderla in realtà difendendo solo il proprio interesse elettorale sia non corretto non rispettoso del proprio ruolo Dottore abbiamo ancora pochi istanti però le voglio fare anche una domanda sul governo i nuovi ministri tre sono avvocati quattro docenti Di Maio il più giovane l'età media 47 anni almeno un rinnovamento l'abbiamo visto a questo punto di vista la convince lei ha sentito anche i nomi dei nuovi ministri soprattutto la fiducia che è stata chiesta attraverso la piattaforma Russo variabili che potevano essere evitate oppure comunque insomma la trovano d'accordo guardi io ho smesso di essere tifoso di questo di quel politico e di questo di quel partito a livello nazionale perché questa orgia trasformista che abbiamo visto non solo in questa occasione ma già dopo le elezioni dello scorso anno perché ricordiamo che insomma Movimento 5 Stelle e Lega Nord si erano presentati in modo assolutamente distinto e separato e anzi lanciandosi già all'epoca ai pite di poco poco simpatici uno contro l'altro e poi fecero un governo insieme detto questo ripeto io aspetto di vedere le cose innanzitutto mi aspetto che non facciano troppi danni perché bisogna anche sperare questo e dopodiché che si affrontino i problemi veri perché sinceramente negli ultimi anni ho sentito parlare poco dei problemi veri delle persone quindi di costo del lavoro delle tasse che sono troppo elevate e saliranno ancora il prossimo anno vista la finanziaria del governo giallo-verde di sanità che ha i limiti non solo in Friunezza Giulia ma anche nel resto d'Italia e di tante altre cose che riguardano soprattutto le persone normali ma riguardano più in generale il nostro continente europeo non dimentichiamoci che siamo in un sistema più vasto e dovremmo cercare per avere i vantaggi anche in Italia di ottimizzare quelle che sono risorse europee quindi parlo anche per esempio dell'esercito europeo delle forze armate uniche della guardia di confine mediterraneo europea e via dicendo grazie grazie allora come sempre al dottor Valerio delle Frate consigliere comunale a San Vito al tagliamento ci vedremo nei prossimi appuntamenti andiamo in Veneto con l'ospite di Alessio Conforti sì siamo in compagnia di Alvise Innocente che è coordinatore del corso ITS Mecatronica di Portogruaro perché si parla tanto di lavoro si parla tanto di occupazione c'è anche da capire però come la mecatronica possa rappresentare un qualcosa in più magari per tanti giovani che vogliono intraprendere una nuova esperienza professionale professore sì la nostra specializzazione è agromecatronica praticamente noi abbiamo puntato verso un percorso che consente di sviluppare la mecatronica quindi elettronica meccanica informatica sostanzialmente per dare uno sviluppo e una possibilità occupazionale non indifferente perché perché le aziende hanno bisogno di questi ragazzi e abbiamo richieste continue cioè io ho richieste di ragazzi che abbiano questa preparazione queste competenze direi quasi tutti i giorni e abbiamo però la possibilità di dare una risposta ai giovani perché puntando sull'agromecatronica quindi vuol dire sia la parte industriale sia la parte agraria ma agraria intesa come meccanizzazione agraria riusciamo a fornire quel servizio e quelle competenze che danno la possibilità anche a un giovane che non è proveniente prevalentemente da un istituto tecnico ma anche da un liceo da una ragioneria da una scuola insomma che non è pertinente diciamo alla materia per costruirgli un futuro come venditore di macchine agricole come istruttore come magazziniere che sono competenze che richiedono una serie di esperienze che sono sia quella amministrativa sia quella tecnica è un settore in crescita questo nel senso di richieste ma diciamo che le aziende del settore agrario quindi quelle che si occupano di meccanizzazione agraria hanno veramente un'evoluzione incredibile cioè se noi pensiamo alle macchine che raccolgono l'uva piuttosto che alle metri trebbie piuttosto che a certi trattori che fanno i lavori da solo al gps che il trattore può andare a arare da solo quindi la precisione del movimento è evidente che per far funzionare questa macchina ci vogliono delle competenze non indifferenti di elettronica di meccanica di informatica perché bisogna programmarle 30 secondi anche il settore agricolo sta cambiando per questo che c'è la richiesta di un'occupazione nuova certo il settore agricolo sta cambiando ma quello che noi diamo ai nostri ragazzi è l'opportunità sia di inserirsi nel mondo della meccanica per l'agricoltura ma anche quella industriale perché quello che determina la competenza del ragazzo sono sostanzialmente le 800 ore che fanno in azienda 800 ore in azienda su 2000 vogliono dire preparazione specifica in un settore dove c'è una forte richiesta di occupazione torneremo a parlarne grazie grazie a lei per essere stato con noi linea a Pordenone andiamo con i prossimi due ospiti allora Giovanni Rampogna alla mia sinistra grazie ovviamente per essere tornato in nostra compagnia il cittadino la mia destra invece Beppino Nosella open sinistra Friuli Venezia Giulia grazie professore bene ritrovato grazie per essere tornato in nostra compagnia partirei proprio da lei analizzando un po' questa situazione è una situazione che ha sentito prima tante le persone che sono interdenute noi tra le altre cose abbiamo posto questa domanda è giusto leggere ogni tanto anche qualche commento che arriva da casa tanti messaggi arrivati siamo in venti in ufficio e tutti speriamo che duri il meno possibile questo governo quindi già c'è qualcuno che non lo vede di buon occhio la compagina insomma di sinistra però pregnante importante all'interno la stessa sinistra che qualcuno magari dice ha decretato le sorti degli ultimi anni della nostra Italia io le chiedo siete veramente pronti e decisi a risollevare il nostro Stato questo è un obbligo perché questo impegno che si è preso la sinistra il centro-sinistra ma anche le stesse 5 stelle è veramente l'ultimo l'ultima possibilità se il centro-sinistra sbaglia questo colpo qui il centro-sinistra praticamente per i prossimi 30 anni va a Lumicino i cittadini lo punirebbero molto sapendo questo hanno fatto un governo un governo coraggioso ci sono molte donne in questo governo ci sono dei personaggi anche di livello possiamo vedere veramente sull'agricoltura il ministro degli interni ci sono due donne sono due donne con grande esperienza e io credo che si possa fare molto con questo governo anche dal programma si vede per esempio andranno a ritoccare quota 100 sembrerebbe che si fermi nel 2020 ma per tranquillizzare i cittadini quota 100 non è mai stato spiegato bene ma in poche parole è come andare con la pensione minima uno ha lavorato 38 anni gli verranno riconosciuti 20 anni di lavoro perde 18 anni di contributi questa in sostanza è quota 100 a chi conviene il quota 100? conviene quelle categorie che hanno delle diversità di versamenti che gli permette di avere comunque una pensione diminutosa chi invece ha fatto il commerciante o ha fatto l'operaio rischia di trovarsi con una pensione di 700-800 euro senta che le chiedo la sinistra diciamocelo chiaro è sempre stata quella per l'accoglienza quella per l'accoglienza giusta però qualcuno dice troppi ne sono arrivati troppi in Italia e qualcuno poi ha pensato dopo di voi di chiudere i porti magari di pensare anche ai confini blindati di aumentare la sicurezza adesso che siete al governo come intendete da questo punto di vista gestire il fenomeno migratorio perché non è una barzelletta siamo di fronte a situazioni davvero importanti io magari sarò ridondante con lei le farò sempre le stesse domande però adesso a me fa piacere che mi faccia queste domande c'è il centro-sinistra che governa mi sembra già qualcuno che dice rivediamo i decreti sicurezza uno è il decreto sicurezza bis voluti fortemente dalla Lega sì allora il problema principale risale al 1992 da quando è cambiata la seconda ricorda si ma guardiamo a oggi no no ma mi permetta altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose ripartiamo da oggi come intendete affrontare il tema senza andare alla notte dei tempi vada allora bisogna ricominciare a fare gli accordi internazionali con i paesi Minniti aveva già fatto aveva già bloccato un corridoio poi c'è un'altra cosa che si dice perché fa come si dice fermare una barca fa audience ma in realtà i flussi veri ogni anno che arrivano sono i flussi agricoli ogni anno arrivano migliaia e migliaia di persone con i flussi agricoli e gran parte di questi flussi agricoli non rientrano al proprio paese in poche parole queste persone regolarmente arrivano qui con dei visti poi abbiamo visto anche nelle procure di Venezia che sono state arrestate aziende e anche collusi dei funzionari perché venivano fatti questi flussi agricoli o stagionali in modo promiscuo se noi non riusciamo a creare di nuovo di fatti vogliono mettere la mano anche sulla bossifini c'è bisogno di regolamentare noi abbiamo troppi clandestini in Italia dobbiamo prendere una decisione dobbiamo fare gli accordi per l'impatri dobbiamo fare gli accordi per l'accoglienza con l'Europa perché inutile dire fermiamo le navi e poi non si va in Europa a discutere con l'Europa quando ci sono i tavoli perché Salvini non ci andava la nave la si ferma adesso c'è il decreto stop marcia indietro in Italia non si sbarca come vi comporterebbe perché gli italiani vogliono sapere anche quello se si guardano i numeri arrivano più in Spagna e in Grecia che in Italia e questo bisogna dirlo perché i porti più battuti sono Spagna perché arrivano dal Marocco e Grecia perché arrivano dalla Turchia è vero è una domanda difficile da rispondere fermate le navi o non fermate le navi bisogna ritornare in Libia se noi non torniamo in Libia a trovare una soluzione è logico che le navi continueranno a arrivare e se una nave si trova in mare non puoi fermarla fuori dal porto bisogna fermare prima che partano queste navi Salvini ha avuto il coraggio di sfidare addirittura le leggi del mare o altro ha sfidato io non ho detto ha avuto ragione o ha avuto torto ha sfidato e ha rimandato al mittente le persone sono entrate più di 4.000 persone da gennaio a giugno queste 4.000 persone non le ha fermate Salvini da dove sono arrivate? sono arrivate dagli sbarchi pertanto ogni tanto fermavano una nave per far vedere che fermavano le navi ma non è vero perché arrivavano le navi o in autonomia o venivano le navi che non venivano guardate e la ruota balcanica? la ruota balcanica sì ma non sono arrivati i 4.000 dalla ruota balcanica questa grande maggioranza però siamo sinceri è arrivata dal confine sono arrivati dal balcanico io l'ho sempre denunciato qui che dai balcani c'è un flusso ma la realtà è che le navi che venivano fermate erano navi ad hoc fermate altre navi anche si vedono adesso che stanno arrivando sono arrivati anche in Puglia dei barchini sono arrivati in autonomia altri barchini in Sicilia in poche parole venivano fermate quelle delle ONG quelle autonomi quelli che arrivavano in altri modi non venivano mai fermati ne riparleremo ne riparleremo ancora anche perché la tematica sicuramente è scottante grazie allora come sempre a Beppino Nosella open a sinistra Friuli Venezia Giulia Giovanni Rampogna invece io so che la sanità è un tema che le interessa parecchio ma soprattutto lei vorrebbe insomma uno stato a garanzia dei servizi io prima nel fuori ondolo ho detto ma guarda che stiamo andando avanti purtroppo sempre verso più la privatizzazione modello America le portavo un esempio per avere una visita dermatologica a pagamento addirittura un mese per fortuna non ci siamo rivolti al servizio pubblico se no magari avremmo dovuto attendere un anno o addirittura due anni com'è la situazione troppo o troppo poco abbiamo? ma qua c'è una sorta di abbandono verso i servizi maggiori dello Stato italiano i servizi maggiori dello Stato italiano sono la sanità l'istruzione i trasporti l'assistenza domiciliare e queste cose qua fino adesso da un paio d'anni dal 2008 ad oggi non stiamo facendo un buon servizio sanitario e chi ne paga le spese di vita sono gli ammalati i vecchi i bambini e poi a confermare questa situazione è anche i due casi della Elisa e della Giorgia queste due bambine che hanno bisogno di cose altamente specializzate e non riescono a trovarle perché noi vogliamo uno Stato che sia garante della qualità della vita sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana perché non possiamo pensare che sia il volontario o il privato a risolvere il volontario il privato certo faccia pure il volontario e il privato ma lo Stato deve fare il suo dovere sancito dalla Costituzione viene meno viene meno il suo dovere e quindi abbiamo vecchi e bambini bisognosi di assistenza che non la ricevono adeguatamente e quindi le case di riposo ne pagano le conseguenze e quindi gli asili le scuole materne tutta la fascia tutta la fascia dei deboli e dei precari viene colpita noi rivendichiamo noi e mi do del noi voi vecchi dai voi anziani noi vecchi rivendichiamo un momento di maggiore responsabilità e maggiore e migliore qualità della vita dei servizi noi abbiamo un istituto ospedaliero 20 secondi ancora sì signore un istituto ospedaliero che è lungo 150 metri 250 metri in una città di 52 mila abitanti o 100 mila abitanti non possiamo toglierci questo lusso prenderci questo lusso di costruire questo popò comunque è stato fatto speriamo che basti nei secoli adesso perché casa mia ha 150 anni e devo è ancora in piedi i vecchi ospedali li hanno buttati giù perché non crollavano da soli e quindi vecchio alza la testa che il potere te la rompe grazie grazie come sempre a Giovanni Rampogno il cittadino ci vedremo la settimana prossima stiamo correndo anche perché abbiamo ancora ospiti il tempo e tiranno ben ritrovata anche a Margherita Cusin in Coda Cons del Friuli occidentale grazie Avvocato oggi parliamo di banche parliamo di banche perché ci sono dei termini da rispettare per coloro che hanno per i risparmiatori che sono incapati nelle cosiddette banche venete in particolare il 21 agosto è stato emesso il decreto attuativo della legge 145 del 2018 che cosa prevede prevede l'istituzione di un fondo finalizzato al rimborso di coloro che hanno investito in azioni e o obbligazioni nelle banche in particolare nelle nostre zone Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca chi ha diritto a presentare la richiesta ha diritto il risparmiatore oppure un suo delegato è totalmente gratuita c'è però un termine che va rispettato che è di 180 giorni con decorrenza 22 agosto tenete conto che gli scorsi giorni non era possibile inviare le richieste perché il sito era in era in tilt non era utilizzabile quindi diciamo non perdete tempo e brevemente indico i documenti che sono necessari allora è necessario i documenti di riconoscimento se c'è un delegato l'attestazione di delega poi i documenti attestanti l'investimento nella banca interessata e inoltre c'è una corsia preferenziale ex articolo 502 bis della norma per coloro che hanno una di queste tre condizioni allora un reddito imponibile nel 2018 non superiore a 35 mila euro annui un investimento nella banca inferiore ai 50 mila euro e un patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2018 non superiore ai 100 mila euro quindi inoltre va indicato l'Iban presso cui dovrà essere effettuato il rimborso e un'attestazione della banca della correttezza dell'Iban attenzione ai termini attenzione a depositare in maniera corretta e completa tutti i documenti e indicare l'indirizzo mail dove potrà poi potranno scrivervi per eventualmente implementarli per ogni informazione siamo a disposizione Avvocato allora grazie grazie ci vedremo nei prossimi appuntamenti Margherita Cusin che rappresenta il Codacons del Friuli occidentale andiamo invece con Alvaro Cardin vivo Pordenone grazie ovviamente per essere tornato in nostra compagnia so che era desideroso di parlare del governo e di chiudere poi con Pordenone in particolare parlando del futuro del cosiddetto bronze allora andiamo per gradi governo cosa aspettarsi diciamo che il tempo un anno e mezzo travagliato adesso c'è il conte bis come diceva il conduttore poco fa il tempo è tiranno quindi vedrò di essere stringatissimo con due tre flash il primo per quanto riguarda naturalmente il governo ecco io devo dire solamente due esprimere due considerazioni che riguardano poi le persone senza togliere nulla peraltro alle persone alla loro bravura alla loro capacità alla loro professionalità ecco incominciamo per esempio dal fenomeno straordinario che chiaramente di livello planetario dovrebbe essere perlomeno affrontato in questa sede vale a dire l'ONU e riguarda appunto l'immigrazione gli immigranti va bene no ecco sono un problema molto serio lo diceva prima anche la Miconosella è un problema che naturalmente preso da una parte preso dall'altra preso da quest'altra è difficilissimo da riuscire a impostare a organizzare e a gestire allora io ho questa considerazione da fare a riguardo di questo nuovo governo sarei stato più propenso a riproporre la figura di milliti lo dico con molta franchezza perché a parer mio ci vuole in questa circostanza una forte capacità di relazione anche a livello europeo e quindi capacità di relazione significa anche capacità naturalmente politica sotto questo profilo con tutto rispetto naturalmente anche per la bravura indiscutibile della nuova diciamo responsabile di questo specifico e delicato settore no la prefetta naturalmente di Milano ecco che appunto assume questo incarico ecco io penso che sarebbe stato sicuramente preferibile una figura diciamo come appunto Minite che ha dato saggio indiscussa bravura rispetto diciamo così a questo tipo di delicato problema primo è uno secondo punto ecco un altro problema anche questo che riguarda direi una nota positiva se vogliamo di questo governo ma non tanto del governo quanto di ciò che ha incorniciato questo insieme di fattori che hanno concorso a determinarlo ecco la figura di Orlando che ha rinunciato a fare il ministro e questo è un dato altamente positivo perché Orlando credo che abbia capito come dovrebbero capirlo un po' tutti quanti quelli che si impegnano di politica e quindi della cosa pubblica ecco ha rinunciato a fare il ministro per impegnarsi di più a livello di partito questo va bene è un bel segno che io volevo evidenziare terzo punto il bronzo quello più locale il bronzo mi ha fatto molto piacere oggi leggere che appunto ci si sta occupando seriamente a livello di amministrazione civica del bronzo è un tema che più volte ho sollevato anche nei confronti del sindaco e dell'assessore competente e devo dire francamente che era veramente auspicabile una riconsiderazione del bronzo almeno dal punto di vista dell'arredo urbano perché perché l'arredo urbano in quella zona è veramente in una situazione direi tragica per non dire di peggio e non mi riferisco solamente alla parte sottostante ma a parte anche soprastante e quindi per farla breve diciamo che sotto questo profilo l'impegno dell'amministrazione civica credo che vada nella direzione giusta sotto questo aspetto quindi mi auguro che vengano accelerati i lavori anche di puntellamento e anche di sostegno della piazza perché a suo tempo era stato detto che non si potevano appunto realizzare determinati interventi proprio per la fragilità della piazza medesima quindi sotto questo profilo mi auguro va bene che l'amministrazione continui e persegui su questa strada grazie anche allora ad Alvaro Cardin vivo Pordenone ci vedremo nei prossimi appuntamenti allora subito linea al Veneto che chiuderà questa primissima parte con l'ospite vedo già Alessio in compagnia del suo ospite a seguire le notizie che riguardano il meteo quindi Osmer, Arpa Friuli, Venezia, Giulia che ci darà dei raguagli sulla situazione meteorologica del tempo tutte le altre notizie che arriveranno dalla redazione di Udine da quella del Veneto non perdete il dopo telegiornale perché saremo ancora in diretta questa volta parlando di problemi dalla sanità ai trasporti con il consigliere regionale Tiziano Centi su un altro buon motivo per rimanere con noi Sì, grazie Alberto con Enrico Zanco consigliere comunale a Portogruaro parliamo della rotatoria di Lison quest'opera che verrà realizzata dall'ANAS in uno dei punti più critici della viabilità del portoguarese già teatro tra l'altro di incidenti stradali anche mortali progetto che ormai è al via è già tempo di pensare insomma all'inizio dell'opera no Zanco Buonasera ai telespettatori e a telespettatrici Sì questa sera parliamo della rotonda di Lison quest'opera qua è stata voluta principalmente ed è stata ed è un risultato che è stato acquisito principalmente per volontà del nostro sindaco e della nostra giunta grazie soprattutto ai buoni rapporti e anche proprio ai colloqui ai discorsi e alle continue considerazioni fatte dal nostro sindaco con ANAS il costo è principalmente in capo ad ANAS questa rotonda qua va a creare l'ingresso alla frazione di Lison un ingresso importante evitando quella situazione particolarmente pericolosa che si trova anche attualmente lì per fare l'ingresso nella frazione di Lison siamo lungo la Triestina certo che si per far capire vicino alla casa del trattore al bar l'opera dovrebbe iniziare entro fine ottobre di quest'anno abbiamo già fatto due commissioni dove sono stati raccolti alcuni pareri dei consiglieri comunali successivamente qua a breve avremo un incontro anche con i cittadini della frazione di Lison per sentire i loro punti di vista le loro osservazioni che anche se questo progetto è definitivo vediamo se riusciamo anche a inquadrarlo grazie e osservazioni che gli vengono presentate tenendole in considerazione e se può esaudirle senza altro le farà proprie ecco queste sono questa rotonda qua è molto importante sia per la viabilità della statale che per l'ingresso di Lison voglio precisare che la rotonda non è non ha nulla a che vedere poi con la via attigliana dove c'è il dove attualmente è chiusa da diversi anni ecco lì è una situazione che riguarda il comune e RFI perciò sarà un argomento che verrà valutato esaminato successivamente senta Zanco prima di salutarla parliamo di sport perché Terre Voluta era il festival della bonifica dello scorso maggio all'interno del programma vi era anche di ruota in ruota un evento di ciclismo che causa maltempo in quel mese venne rinviato ma ora è tempo insomma di riparlarne sì di ruota in ruota era una manifestazione che è aperta a tutte le famiglie perché è un percorso ciclabile aperto sia ai grandi che ai piccoli quest'anno diversamente dalle altre edizioni viene fatta in concomitanza con l'evento Open Sport si fa la mattina con partenza alle nove e mezza da Piazza della Repubblica c'è una sosta in Lugugnana dove si potrà apprezzare lo space il punto il centro culturale che questa amministrazione ha realizzato nella frazione di Lugugnana e poi avremo la sosta con la pasta asciutta con il formaggio con il viursel e con pane ce n'è per tutti i gusti diciamo certo che sì e poi il rientro a Portogruaro la manifestazione la facciamo il 15 di settembre sperando ovviamente nel bel tempo e tutto quello che noi raccogliamo viene dato in beneficenza mi auguro la partecipazione più numerosa possibile vado a chiudere Zanco perché la regia mi fa i segni di fumo grazie grazie per essere stato con noi chiudiamo questa prima parte l'inno subito al break e poi ancora con l'informazione prima un'ultima e poi si torna qui nel vano restate con noi buonasera buonasera a tutti dunque anche oggi un'altra bella giornata di sole cielo sereno tutto il giorno temperature massime in pianura attorno ai 27 28 gradi nel primo pomeriggio questo a causa dell'afflusso di correnti centrionali ancora piuttosto fresche e secche che mantengono condizioni di stabilità atmosferica da domani pomeriggio torneranno a fuori correnti meridionali in quota con aree che sarà progressivamente più umida venerdì sul Golfo Ligure si formerà invece una depressione che richiamerà di nuovo correnti orientali verso la nostra regione domani dunque inizialmente ancora bel tempo con il cielo prevalentemente sereno su tutta la regione poi dal pomeriggio in montagna comincerà ad aumentare l'inosità e il confine con le Dolomiti e il confine con l'Austria non è escluso nel tardo pomeriggio sera qualche breve piovasco temperature in aumento domani domani giornata estiva con massime in pianura attorno ai 30 31 gradi in aumento leggermente anche sulla costa anche se nel pomeriggio domani dovrebbe soffrire un po' di brezza in attesa del ritorno della Bora che comincerà domani sera e che nella notte tra giovedì e venerdì potrebbe anche essere piuttosto forte dicevamo venerdì l'avvicinamento della depressione che si forma sul Golfo Ligure inizialmente probabilmente ancora a tempo abbastanza solleggiato sulla nostra regione poi aumento della nuvolosità con cielo che sarà nel pomeriggio sera nuvoloso tratti anche coperto soffierà Bora Bora che nella notte potrebbe essere sostenuta o forte a Trieste Bora poi in genere moderata nel pomeriggio saranno possibili delle piogge sparse magari intermittenti in genere deboli o moderate a partire direi comunque dal pomeriggio di venerdì e calerà la temperatura anche in quota anche in montagna tant'è che non è escluso che sulle cime sulle vette a 2600 2700 metri ci sia anche qualche brevissima nevicata le temperature quindi saranno decisamente in calo anche delle massime in pienura dove non dovrebbero superare i 25 26 gradi per sabato e per domenica tendenzialmente un peggioramento del tempo ma l'evoluzione è ancora incerta ci aggiorneremo domani buona serata ben ritornati dunque gentili amici amiche la visione all'ascolto continua l'informazione su TPN pagina da Udine dedicata sempre al Friuli Venezia Giulia il nostro treno dei servizi con uno speciale dedicato all'ERTE poi torneremo in studio con le altre notizie sono stati presentati oggi nella sede della regione a Udine i 27 cartelloni teatrali 2019-20 che fanno capo all'ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia a illustrare la programmazione annuale di prosa musica e danza sono intervenuti il presidente dell'ERTE Sergio Cuzzi il direttore Renato Manzoni e Walter Maror direttore di artisti associati struttura con cui l'ERTE collabora per l'attività di danza da Trieste per motivi istituzionali è intervenuta in videoconferenza l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli a chiudere Luciano Saltoretti presidente di Credi Friuli istituto che da quest'anno sostiene l'attività del circuito ERTE direttore 50 anni in scena ma soprattutto l'aspetto tecnico di quello che sarà questa stagione teatrale in Friuli Venezia Giulia esatto quest'anno cresce ancora la famiglia ERTE avremo 4 piazze in più quindi arriviamo a 27 si uniranno Talmasson Spolcenigo Spilimbergo e Forni di Sopra quindi sempre più richieste ci auguriamo sempre teatri pieni come è stato finora e di coprire sempre tutta la regione capillarmente ospiti importanti che parteciperanno in questa stagione si io ricordo che diversi spettacoli di apertura saranno con Angela Finocchiaro perso il filo e quelli di chiusura con Gioele Dix vorrei essere figlio di un uomo felice poi avremo tante cose i classici perché è un nostro impegno anche essere presenti sui classici quindi pensaci Giacomino di Leo Gullotta la locandiera con la Sandrelli il misantropo con Scarpati e poi anche ci tengo a ricordare sempre testi di autori under 35 usciti da Rassegne che si chiamano sia French Festival di Torino sia Next dell'Agis Lombardia Tante novità abbiamo detto perché il teatro comunque si rinnova sempre Il teatro si rinnova ed è un momento per stare assieme parlare essere partecipi e soggetti partecipi e affrontare dei problemi in modo concreto Soprattutto abbiamo visto il riscontro del pubblico perché spazio un po' dappertutto Spazio dappertutto vediamo che c'è anche gente che circola e va dai nostri teatri frequenta più stagioni abbiamo abbonati comuni a varie stagioni ma dall'altro lato andiamo incontro anche a chi non si sposta anziani e giovani Edizione 50 ma so che lei sta già lavorando alla 51esima Beh 51esima aspettiamo vedremo come va la 50 intanto Lo spettacolo continuo Grazie Presidente 50 anni e non dimostrarli nel senso che l'ERTA ancora una volta dà qualcosa in più ai suoi spettatori Sì credo di sì io purtroppo li dimostro avendo cominciato dalla prima stagione a occuparmi di queste cose gli anni passano però la creatura è giovane nel senso che ogni anno ha dei contenuti nuovi ha delle proposte innovative piazze nuove ha conferme importanti e quindi è un gioco che si rinnova annualmente Insomma si dice The show must go lo spettacolo lo spettacolo deve continuare ma soprattutto come abbiamo sottolineato anche col direttore che ci ha spiegato la parte diciamo tecnica sempre qualcosa di nuovo Questo è importante io credo che la cosa più importante nella nostra attività che è quella di distribuzione sia quella della qualità se non proponi spettacoli di qualità la gente va a vederselo Giovanni Daudino o va a Trieste o a Portanone non c'è nessun motivo di andare a vedere nel proprio paese o una paese vicino e naturalmente la qualità va sostenuta dalla novità i gusti del pubblico cambiano nel corso degli anni e quindi bisogna ogni volta proporre qualcosa di nuovo non i soliti personaggi è un equilibrio non facilissimo da trovare ma insomma abbiamo una certa pratica e riusciamo a trovare la formula giusta Lei mi ha anticipato nella risposta andare nei paesi portare il teatro in tutto il Friuli Venezia Giulia non è semplice l'ha detto lei ci sono grandi teatri come Udine e Trieste però continuare le radici storico-culturali all'interno delle comunità friulane non è poca cosa Ma noi abbiamo diciamo come regione Friuli Venezia Giulia abbiamo a livello nazionale dei dati splendidi per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo e in modo speciale per quanto riguarda la prosa ma abbiamo dei numeri da record per quanto riguarda la distribuzione cioè noi siamo presenti veramente in paesi piccolissimi del territorio e noi facciamo un punto d'onore perché la risposta c'è a volte in passato si era discusso se fosse opportuno organizzare delle stagioni in paesi molto vicini abbiamo visto che non penalizza che il pubblico aumenta ed è fedele a entrambe oppure comunque sì in alcuni casi c'è la sinergia per cui non si sovrappongono le date non si sovrappongono i titoli eccetera no secondo me le cose così come sono state impostate in questi anni funzionano e vanno avanti non resta che dire sul sipario vive lo spettacolo certamente è sempre così l'ERTE non è solo spettacolo ma anche formazione nel territorio soprattutto per coinvolgere i giovani a portare avanti questo progetto sì diciamo che io sono particolarmente orgogliosa sono la vicepresidente dell'ente regionale teatrale già da diversi anni e veramente continuo anche proprio personalmente da insegnante da ex insegnante a promuovere questa mission dell'ente regionale teatrale cioè quella di coinvolgere i giovani che vanno proprio da fasce di età da scuola materna per così dire fino ai licei e all'università l'ERTE anche questo fa formazione educa attraverso tutta una serie di operatori e nella messa appunto di spettacoli ad hoc educa veramente migliaia di bambini e di adolescenti e di giovani che vengono coinvolti nelle scuole all'interno delle scuole col progetto teatro scuola ma che vengono anche in qualche modo guidati alla cultura teatrale quindi portati letteralmente in teatro da insegnanti attraverso progetti come quello molto importante del Pordenonese che appunto adotta uno spettacolo adesso abbiamo questo cinquantesimo ERT ecco io ho l'onore di coordinare il comitato artistico di questo cinquantesimo a breve avremo anche una conferenza stampa su questo argomento proprio il giorno 11 ma già preannuncio con un entusiasmo veramente incredibile quella che dovrà essere non tanto una celebrazione ufficiale ma proprio una grande festa perché i cinquant'anni dell'ERT sono i cinquant'anni di un ente che fa cultura nella regione Fiori-Venezia-Giulia a tutto tondo non soltanto attraverso le rassegne di prosa ma appunto attraverso questa formazione delle giovani generazioni e la cultura fa bene alla persona e fa bene al paese Per concludere visto che ha lanciato l'Assist riuscire a sdoganare questo dogma nel senso che l'ERT ha avuto un grande vantaggio far togliere quel famoso sistema di dire che ai giovani anche questo è un lavoro nel senso che magari la cultura friulana intesa come lavoro si intende altro però l'ERT è riuscito anche a sdoganare questo dogma Sì la cultura come lavoro la cultura come cultura anche per i giovani Certamente perché tra l'altro in questo contesto così molto variegato e se vogliamo anche molto duttile in questa dialettica così culturale molto accesa molto interessante c'è anche chi e questo io lo posso dimostrare assolutamente proprio per il mio percorso professionale c'è anche chi poi diventa danzatore attore lettore all'interno di contesti culturali forti giornalista ma avvalendosi anche di questa cultura teatrale gli operatori culturali sono dei lavoratori questo è importante saperlo non siamo nell'ambito così della abbiamo abbattuto un tabù abbiamo abbattuto un tabù certo la cultura è impegno cultura è studio è approfondimento e può diventare anche opportunità professionale lavorativa nelle aree di servizio di fratta nord e gonars nord un sistema di telecamere consentirà di controllare dallo smartphone l'area di parcheggio in cui è posteggiata l'autovettura la soluzione tecnologica denominata webcam park è stata sviluppata con l'obiettivo di rassicurare i clienti durante i momenti di pausa nell'area di parcheggio dotata del servizio la clientela troverà fissi cartelli con le istruzioni usufruendo della linea wifi presente nel locale dell'area di servizio si potrà scaricare sul cellulare o su qualsiasi altro dispositivo elettronico un'apposita applicazione Chef Express quindi registrarsi e cedere al menu principale attraverso l'home page basterà selezionare la voce wifi and webcam che mostrerà le differenti aree del parcheggio della catena Chef Express suddivise in numeri e colori nella mappa digitale si dovrà quindi selezionare lo stallo dove è parcheggiata l'auto per accedere alla relativa telecamera e monitorare in tempo reale la propria autovettura il nuovo anno scolastico alle porte per le famiglie si prospetta una spesa per figlio che tra materiale e corredo secondo le stime di Feder Consumatori potrebbe superare i 500 euro studente per sovenire a questa necessità gravosa un pacchetto di servizi indirizzato alle famiglie degli studenti e gli studenti universitari è stato predisposto da CV Bank con CV Prestito Scuola più Sport un prestito di 1000 euro a tasso zero per ciascun figlio fisicamente a carico della durata di 8 mesi l'importo è ottenibile da uno dei genitori mediante accredito in conto corrente alla presentazione della sola copia del certificato di iscrizione alla scuola del proprio figlio mentre il riborso avverrà in ottorate mensili senza interessi e oneri bancari Gusti di frontiera 2019 il programma a Gorinza dal 26 al 29 settembre prossimo in attesa già dai numeri come l'edizione dei record quella che ormai è unita unanimemente accreditata scusate come la più grande frequentata a Carmes gastronomica del nord-est sempre promossa dal comune di Gorizia con il contributo della regione Friuli-Venezia-Giulia della Camera di Commercio della Venezia-Giulia della fondazione Carigo e sostegno della Cassa Rurale del Friuli-Venezia-Giulia invaderà quest'anno la città con ben 413 stand enogastronomici in assoluto il maggior numero di sempre vista le richieste in costante aumento grazie ad un'adeguata dislocazione e metratura degli stand gli organizzatori sono riusciti a soddisfare un numero davvero straordinario di partecipanti ed espositori in rappresentanza di 54 paesi di tutti i continenti distribuiti in circa 20 location tra borghi geografici e percorsi tematici non mancheranno che quest'anno celebre i chef personalità di spicco del mondo eno gastronomico e culturale all'interno del salotto del gusto così come personaggi dello spettacolo dal vivo appuntamento invece domenica mattina in Malga Montasio per l'evento conclusivo della lunga stagione che ancora una volta grazie all'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia ha animato l'estate in quota a far calare il sipario sulla regina delle malghe del Friuli Venezia Giulia sarà la quinta edizione della festa della transumanza evento di grande fascino dal sapore antico che l'associazione ripropone anche quest'anno a conclusione della simbolica al peggio di ben 240 mucche portate a giugno sul Montasio occasione imperdibile per i tanti che ormai vivono lontani dalla natura e dai suoi tempi dilatati di calarsi per un giorno nel ritmo slow della transumanza un rito che si perde nella storia la festa procede il ritorno a casa delle mucche che si concluderà entro il 20 del mese di settembre mentre la malga resterà aperta fino al 6 ottobre prossimo e con questa notizia chiudiamo qui la pagina informativa dedicata al Friuli Venezia Giulia break pubblicitario e poi come sempre le ultime semestre dal Veneto e trovati anche dalla nostra redazione del Veneto parliamo di sicurezza a lungo le arterie autostradali nelle aree di servizio di Fratta Nord e Gonars Nord un sistema di telecamere consentirà di controllare dallo smartphone l'area di parcheggio in cui è posteggiata l'autovettura la soluzione tecnologica denominata Webcam Park è stata sviluppata con l'obiettivo di rassicurare i clienti durante i momenti di pausa lo fa sapere in una motta Autovie Venete nell'area di parcheggio dotata del servizio la clientela troverà affissi i cartelli con le istruzioni Questa mattina alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Cademai siamo a Cortina ad Ampezzo per soccorrere un operaio infortunatosi a oltre 30 metri di altezza durante il montaggio di una gru edile l'uomo era rimasto incastrato con un piede nel traliccio durante i lavori di montaggio del mezzo d'opera nel cantiere i vigili del fuoco intervenuti anche con il personale SAF Speleo Alpino Fluviale utilizzando un'altra autogru presente per montaggio hanno raggiunto l'uomo che è stato imbragato e calato a terra dove è stato assistito dal personale del SUEM 118 sul posto anche il personale dell'ospisal e i carabinieri le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza il lavoratore è stato quindi poi affidato alle cure dei sanitari ebbene potrebbero esserci dei disagi seppur limitati per chi utilizza il trasporto pubblico per recarsi nel posto di lavoro le segreterie sindacali di Filt Fit Wilt UGL Fast e Orsa hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della direzione passeggeri regionale Veneto di Trenitalia nei prossimi giorni ci sarà come detto uno sciopero che potrebbe causare dei problemi per chi sarà diretto al lavoro Olimpiadi invernali 2026 riunito a Venezia il comitato esecutivo per il coordinamento fissati alcuni paletti vediamo in particolare nel prossimo servizio il comitato esecutivo di coordinamento per le olimpiadi e paralimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 ha predisposto un manuale per l'utilizzo del logo transitorio del grande evento sportivo il documento è stato sottoposto all'approvazione del comitato olimpico internazionale segna un'importante tappa nel percorso organizzativo oltre che nella promozione dei giochi ottenuta l'approvazione sarà messa a disposizione degli enti direttamente coinvolti al fine di evitare utilizzi incoerenti del simbolo e garantire che venga impiegato correttamente da chi ne ha titolo è uno dei punti tratti da una riunione svoltasi a Palazzo Balbi sede della giunta regionale del Veneto da parte del comitato esecutivo di coordinamento l'incontro ha avuto una partecipazione importante non solo dei vari membri del comitato Veneto ma anche di quelli della regione Lombardia dei comuni di Milano e Cortina d'Ampezzo oltre che del CONI tra gli altri punti è stata trattata la futura costituzione del comitato organizzatore dei giochi olimpici e l'agenda dei rilevanti impegni internazionali a cui il comitato esecutivo di coordinamento assicurerà una rappresentanza in particolare rappresentanze sono già state stabilite per il convegno dell'associazione dei comitati olimpici nazionali il 16 settembre a Doha in Qatar l'incontro della federazione internazionale di Biathlon ad Anterselva il 29 settembre la riunione dei comitati paralimpici internazionali il 26 ottobre a Bonn e prima parlavamo di un possibile disagio per quanto concerne il trasporto pubblico per quanto riguarda uno sciopero della direzione passarelle regionali Veneto di Tranitalia mancava ovviamente la data per una corretta informazione che è quella di domenica 8 settembre dalle 9 alle 17 quindi potrebbero esserci delle ripercussioni per chi utilizza il trasporto pubblico e per chi ovviamente ha bisogno di questi mezzi in riferimento alle notizie di possibile riduzione dei volumi produttivi e di impegno finanziario da parte del gruppo Wanbao Italia l'assessore regionale al lavoro Elena Donazan chiederà la convocazione immediata del tavolo presso il ministero per lo sviluppo economico per verificare con i massimi vertici dell'azienda il mantenimento degli impegni che la proprietà cinese si è assunta per lo sviluppo industriale del sito di Mel acquistando nel 2014 la storica fabbrica di compressori per la refrigerazione Italia Wanbao ha detto l'assessore Donazan rappresenta un'importante realtà produttiva del tessuto bellunese e Veneto inserito in un contesto produttivo di filiera strategico per l'intero paese qual è quello dell'elettrodomestico e dell'industria del bianco apriamo la pagina del Veneto orientale andiamo a Porto Gruaro ripartono le fontane dei giardini antistanti allo stadio Mecchia getti d'acqua illuminati anche di notte nuovo sistema di ricircolo dopo un periodo di inattività seguito di un'importante opera di manutenzione generale il comune di Porto Gruaro è intervenuto nella riattivazione del sistema artificiale situato nell'area verde vicino alla palestra dell'impianto sportivo le fontane saranno riattivate ufficialmente venerdì pomeriggio alle 18.30 dopo un lifting che le ha dotate di un nuovo sistema di ricircolo dell'acqua con appositi filtri che riducono al minimo gli sprechi aumentando l'effetto dei nuovi getti grazie a questo tipo di impianti inoltre nello spazio acqua sono stati anche collocati nuovamente pesci e ninfee le fontane sono dotate di un sistema di illuminazione che le valorizza ulteriormente anche nelle ore notturne lutto nel mondo imprenditoriale della città del Lemene all'età di 68 anni si è spento Gian Paolo Benetti storica figura legata al mondo della ristorazione dei pubblici esercizi il decesso è avvenuto appunto nelle scorse ore la notizia si è sparsa questa mattina velocemente in città destando particolare cordoglio Benetti era infatti molto conosciuto essendo figlio di ristoratori e avendo gestito per anni diversi locali in centro storico siamo tutti molto adolorati per questa scomparsa ricordato oggi Massimo Zanon presidente regionale di Confcommercio perché Benetti è stata una delle figure centrali del centro storico di Porto Gruaro oggi il mondo del commercio cittadino è doppiamente in lutto vista anche la recente scomparsa di Walter Canciano un altro nome che lascerà per sempre il segno a Porto Gruaro i funerali di Benetti si svolgeranno domani alle 15.30 presso il Duomo di Sant'Andrea lutto anche nell'azienda sanitaria numero 4 del Veneto orientale perché martedì è improvvisamente mancata Katia Pivetta 52 anni residente a Ceggia che per un ventennio ha prestato servizio nelle strutture psichiatriche dell'azienda sanitaria che ora appunto ne piange la scomparsa la sua attività è iniziata con un brevissimo periodo trascorso a lavorare nella cucina dell'ospedale di San Donà poi nel 1998 Katia era stata assunta a tempo indeterminato come operatore tecnico ha detto all'assistenza della comunità terapeutica residenziale protetta per pazienti psichiatrici nel 2004 era diventato operatore socio sanitario ma non aveva mai lasciato il proprio lavoro in ambito psichiatrico dove i colleghi la ricordano come un'operatrice modello i funerali verranno celebrati domani giovedì 5 settembre alle 10 nella chiesa parrocchiale San Vitale Martire di Ceggia il direttore generale dell'azienda sanitaria Carlo Bramezza a nome dell'US4 ha espresso le proprie sentite condoglianze alla famiglia abbiamo parlato nei giorni scorsi dell'evento tipici da spiaggia l'enogastronomia che finisce direttamente sotto l'ombrellone allora sentiamo il presidente di Union Mare Alessandro Bertone oggi siamo a Iesolo per concludere questo importante progetto nazionale di cibico commercio voluto fortemente dal ministero dell'agricoltura e del turismo per testimoniare la vicinanza di questi due mondi ci troviamo a Iesolo alla spiaggia di Nemo ma contestualmente siamo presenti anche a Rosolina Eraclea Caorle grazie anche alla partnership con gli agricoltori italiani con Cia abbiamo avuto la possibilità di far provare agli ospiti che frequentano le spiagge della costa veneta gli ottimi prodotti del nostro territorio e in questo modo abbiamo potuto sottolineare queste due parti importanti del tessuto economico della nostra regione da una parte il turismo le spiagge da un'altra parte le eccellenze dell'enogastronomia e della tipicità dei prodotti del Veneto Tempo di Miss Italia sentiamo come ovviamente si stanno organizzando gli ultimi dettagli a Iesolo nel servizio di Edoardo Amese In occasione delle finali di Miss Italia 2019 a Iesolo nel Teatro Vivaldi sono stati assegnati i primi dieci titoli nazionali alle finaliste del concorso titoli che sono collegati alle aziende partner dell'evento altre quattro fasce Miss Sorriso Miss Eleganza Miss Cinema e Social saranno invece attribuite nel corso della diretta televisiva del prossimo 6 settembre su Rai Uno con l'assegnazione dei titoli nazionali è cominciata la settimana decisiva di Miss Italia venerdì 6 settembre nella diretta televisiva verrà assegnato il titolo di Miss Italia 2019 la Miss dell'ottantesimo anniversario i titoli sono dei veri e propri portafortuna per le ragazze premiate alle quali nel corso dell'anno le aziende partner del concorso offrono importanti opportunità professionali ed occasioni di lavoro in Italia e all'estero Miss Italia è anche a sostegno dell'ambiente di fatti nei giorni scorsi sempre a Jesolo un gruppo di finaliste ha preso parte alla giornata ecologica Sea Life organizzata con il patrocinio dell'amministrazione comunale con l'obiettivo di ripulire il litorale jesolano e trasmettere un forte messaggio contro l'inquinamento sulle spiagge una novità assoluta per l'edizione 2019 sarà che per la prima volta nella storia del concorso tutte le fasi di votazione che porteranno all'elezione di Miss Italia 2019 saranno affidate esclusivamente al televoto le fasi di votazione saranno 4 si passerà dal numero di 80 Miss finaliste a 40 poi a 20 a 10 fino ad arrivare a 2 prevista infine un'ultima fase di votazione che coinvolgerà le ultime due Miss in gara e una terza ragazza recuperata da una giuria di esperti tra le 78 escluse il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di 5 per ogni sessione di voto anche Sanstino di Livenza è un comune interessato dallo sportello del gioco d'azzardo per ovviamente fornire informazioni e supporti per tutti coloro che sono coinvolti dalla patologia legata appunto alla ludopatia le prossime aperture lo sportello del comune di Sanstino ha iniziato la propria attività il 29 agosto presso la sede dell'informa lavoro in municipio appunto le prossime aperture sono previste nei giorni di giovedì 19 settembre dalle 10 e 30 alle 11 e 30 giovedì 10 ottobre dalle 10 e 30 alle 11 torniamo a Portoguraro con un'ultima notizia festival internazionale di musica 37esima edizione venerdì 6 settembre alle ore 21 nella chiesa di San Luigi il laboratorio di musica da camera un evento che rientra appunto nella 37esima edizione della nota rassegna internazionale di musica con questo è tutto grazie per averci seguito vi lascio alle nostre previsioni del tempo a voi tutti un buon proseguimento con la nostra programmazione perché come sempre la serata è ricca su Teleporto arrivederci giovedì tempo nel complesso variabile con spazi di sereno soprattutto fino al mattino in pianura nuvolosità instabilità crescenti in seguito soprattutto sulle zone montane precipitazioni fino a metà giornata generalmente assenti poi probabilità in aumento fino a medio alta 50-75% sulle zone montane e pedemontane medio bassa 25-50% sul resto dell'entroterra e bassa 5-25% sulla costa si tratterà di piogge anche a carattere di rovescio temporale da locali a sparsi comunque un po' più diffuse e insistenti in montagna possibili in pianura più che altro alla sera temperature le minime suberanno variazioni distribuite in maniera irregolare tra cui delle diminuzioni a sud e degli aumenti in montagna le massime subiranno in quota un contenuto calo nelle valli variazioni distribuite in modo irregolare ed altrove un aumento al più contenuto localmente moderato 20-in quota generalmente dai quadranti meridionali fino al pomeriggio deboli e alla sera moderati altrove deboli con direzione variabile salvo alcuni moderati rinforzi dai quadranti settentrionali più probabili a fine giornata in pianura e su qualche valle prealpina mare poco mosso a tratti quasi calmo sotto costa telepordenone la grande informazione del nord-est c'è tutto ma proprio di tutto a tratti o